Ok ragazzi eccoci qui finalmente su Black Meat Wukong Inizia il viaggio di Wukong Finalmente Lo aspettavo tantissimo Si prepara Oh ma inizia così subito Alla carica Bello Con la nuvola anche in stile Goku Eh si ragazzi ma è lui Che figo Wow Ah ma non mi aspettavo che iniziasse così Che meraviglia Mamma mia Cosa sono tutti questi soldati Ma non li devo affrontare tutti Mi sembra assurdo My master Sif The scriptures Sound All I ever wanted Was a life in my mountain Free from you And your so called Merits Those high above Don't trust me I understand that And they send you And those knuckleheads To threaten me To obey and serve once more They understand that too But what I don't understand Is You bastard Killing my kind Mamma mia che faccia Cos'è quello Cos'è quello Stay back Stupid dog Mark this Is not just any monkey He's a monkey of merit A monkey was made Buddha once No None other than me Can challenge him to a duel Look monkey I don't make a habit of fighting someone I've bested before Mi ha già sconfitto Here's my offer If you lose I'll take you to the celestial court They will stay And level your mountain But if I lose I shall certainly take revenge And they Will level your mountain Nonetheless How tragic would that be You are one of the court We don't need to resort to violence How about You bend the knees Admit the wrongs And we can put this behind us All these years Except for that pig You're the one who talks the tallest tales Good I am entertained Speaking of entertainment Wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack And allow you to keep the other two Because I'd hate to let you miss how I slaughter each mongrel of the court Those below Those above And that black mutt of yours Come at me All of you Oh Oh si comincia Oh ma è incazzatissimo Wukong Oh Finalmente Premo questo gameplay Oh Ah Belle queste mosse La moltiplicazione delle scimmie Stile Naruto Oh 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 madonna Mamma mia Oh C'è troppa Troppe nuvole ci sono Caspita Aspetta Bisogna prenderci la mano Bello Caspita E adesso Molto figo Ci prosegue Ci prosegue Ok Ma sapete che c'è un gameplay Alla Xenoverse C'è gli attacchi speciali Che si aprono Con R2 Attacco pesante Con triangolo È tipo Dragon Ball Oh Oh Bello Fichissimo Che figata Si va Si va si va si va Oh Cos'è questa roba Ha preso Allora Corriamo Verso di lui No 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 Oh cazzo Ma comunque Ma è proprio bello Cioè la scena Tutto Meraviglioso Che figata Guarda Guardalo Bellissimo Quando si allunga Il bastone No no Ho fatto la cazzata Eh ma lui Non mi sembra Fortissimo Però eh Beh il primo Boss Ok ci siamo Il combattimento è finito Mi sa Guarda Guarda che figo Bellissime Queste scene Che figo E la musica Anche sotto Bella File monkey Taste my axe E la madonna Ho spaccato una roccia In due Brat Ti chiamai A tua La glia Sì È Dazzling Scusami In le Scusami Se hai Le Scusami Ah vedi Si trasformano Che è successo Ma L'ha Fottuto And so ends The last tale Of Sun Wukong A hero Who treasured His freedom Above all else Buddhahood He attained Yes But cumbersome He found The celestial rules For he yearned To come back And to revel In the simple Joys With us Little did he know His choice To forgo The life Above Only Fueled Their Mistrust Cioè Quindi Non è Più Una divinità This stone This stone Has stood For countless Days On the mountain Since my youth They've said That his remains Lie within it Unbegotten Undying Such is the nature Such is the nature of a stone monkey Such is the nature of a stone monkey I've seen them Nothing centuries I'm old now Venture through all the lands I cannot Yet among you There might be one Who is destined One that should recover All his scattered relics And upon the return Of the relics To mount Tuaguo He may yet Rise again Bello 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 Bell'inizio Ci sta Molto Figo Quindi sono diventato Una scimmia Cioè Adesso sono Semi normale Tipo Ho perso i poteri Dopo quello Scontro Devo recuperarli Capitolo 1 Nubi Nere Fuoco Rosso On the gold Bend the toe Life of human Awful gold Nowhere better Than a home Reach death Than ever grow Huh? Yeah You see What bliss My fate so Well, always Locks around the corner Seems like you just Fell from a fruit tree here Perfect timing This peach Is new I need a snack Ah, era la scimmia Dad Fool me I'll make sure you regret it Wow Wow No matter How many times You come around You're still Miss Mischievous as ever Eh? Questi li facciamo fuori subito Ok Comunque Bella ambientazione R1 Si scatta Ce n'è un altro Bello 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 Ok Qui dove si va Qui due strade Allora Ok Ok Attacco pesante Con triangolo Benissimo Benissimo Qui si apre Si trovano oggetti Ah, un po' in stile Cloud of War Con gli scrigni Bene Di qua Anzi di là che c'era Ah, c'è un tizio da picchiare Oh, attenzione Ok Ok Oh, what you waiting for Pluck your hair And make an offer Hey, hey Wait Hi The clipper of Blackwind Mountain Have long been waiting for your arrival Oh His spitting image I'd say Up ahead is Guan Yin temple In che senso sei uguale Cioè In che senso sei uguale? Cioè In che senso sei uguale? In che senso sei uguale? Cioè Ah Ah E Quindi Il templo Si è rinconato Oh Che buono è Per rinconare Il templo Se il buono Deve Si è E' stato bruciato da ascii Tu hai scoperto questo posto Ma loro non hanno scoperto tu E' una difficile Buona luck a te Ok Ah ha detto he is back Ok Foresta dei lupi Beh E' abbastanza prevedibile Visto che sto incontrando solo lupi Ops Oh che mazzata Bene bene andiamo di qua Bello comunque ragazzi eh Sembra veramente figo E siamo solo all'inizio Allora Questo si raccoglie? Sì Bastardo Dove è uscito quello? Ah mi sono dimenticato di agganciare il nemico Ah con L1 mi riprendo un po' vero? Ah ok C'è una specie di bevanda Vabbè un po' la souls Chiaramente E adesso Oddio quello cos'è? Una specie di mini boss? Caspita Ah ma le mosse che avevo prima non le posso usare più Oh caspita Oh 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 caspita Ah Ah ho il vigore che si consuma Cavolo Non ci ho fatto caso Merda Merda Oh Oh Cosa cavolo è successo? Ah E' lui che mi ha aiutato Però non stava andando male Potevo sconfiggerlo Oh Questo è il potere che stavo usando prima Con Eh Il primo boss Oh È stato un tempo Ma il spell immobilizzato ancora funziona come un carico Oh 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 Since you hail from Mount Huagro It won't hurt to teach you A handy trick Now Here we go Give me your hand Hey Gro Should you come across Any miscreants Just point your finger at them And release this spell You'll be able to hold them in place While giving yourself a breather Sadly Mine is but a humble trick Its power will wear off within a few short moments Though it's good enough against boneheads like this one Anyway Just consider it an ace up your sleeve No Oh 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 Non c'è nessuna mamma! Non dimenticare, insegnarle una lezione con la tua nuova sparrola! Dai, fatti sotto! Merda! Caspita, mi sto facendo fregare inutilmente! Allora... Stai fermo e facciamola finita, dai! Benissimo, andato! Andiamo avanti! Apri l'avanzamento personale per svegliare i talenti. Sai di livello per ottenere scintille, svegliare magie e abilità. Ok. Suscitare non provoca la perdita delle scintille. Ah, benissimo! Quindi cosa c'è? Un menu per potenziamenti? Ah, ok, ok. Questo è l'equipaggiamento. Eh, vabbè. Non posso ancora cambiare nulla per il momento. Inventario. Avanzamento personale. Eccolo qui. Ah, ok. Vediamo. Abilità. Pose del bastone. Vediamo cosa... Vediamo cosa... Ah, ok, ok. Le, ok. Ok. Ogni livello del talento... Ok. 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 Posso potenziare questo. Poi... Questo. Perfetto. Va bene. Va bene. Si, è molto la God of War da questo punto di vista. Sembra un misto di God of War e Souls. Dove vado adesso? Ci sono due strade qui. Eh, buonanotte. Ok. Dove mi porterà qui? È interessante... Curiosare qui in giro, eh. Molto interessante. Ah, tra l'altro mi sta finendo la... La roba lì... Da avere per... Riprendere vita. Ci sarà un modo per crearle, immagino, miscelando... Queste piante. Salve. Ma non c'è la parata, tipo. Che finora... Cioè, solo schivata mi fa fare. Qui? Oddio, dove... Dove mi sto addentrando, ragazzi? Dove mi sto addentrando? Ok. Ok. Questo è praticamente un checkpoint. Ehm... Negozio... Riposa. Così di... Se riposo... Ah, ok. Si riprende tutto, vedi. Ok. Va bene, va bene. Anche la... Hey, Wish. Non pensi che puoi solo parareare in? Do you? Non è così semplice. Devo mi trasformarti in una cicada di Golan Perciò che puoi seguire le foglie di avanti Perciò... 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 Figo... Quindi così posso inosservato, ma... Ha una scadenza sta roba? In the depths of Black Wind Mountain There are secrets galore The cicada form May help you explore But we feel This form does not last for you If there is anything left to try If you find yourself lost Just follow my voice Now, off you go Come faccio a sapere quanto dura la trasformazione? Oddio, chi è quello? Un gigante di Attack on Titan? Strano Ma così praticamente faccio tutto il gioco, non ho capito Io nel senso vado dritto E non affronto nessuno No, aspetta Aha, ecco Porca miseria Porca miseria Questo lo do molto pericoloso Ecco, come non detto Oh madonna Ok Eh, mi sembra molto pericoloso questo Porca vacca Ok Eh, vabbè Ok, ok Eh, questo mi sembra che il primo boss è effettivamente forte Ci sarà bisogno di prepararsi per lo scontro con quel tizio praticamente Ma questo se lo dovessi affrontare invece che succede? Ma è un nemico? Oh mamma Oh caspita È veramente Un piccolo titano di Attack on Titan Ma come lo affronto? È enorme questo Ah no, ma Tu non sei previsto nel combattimento Oh 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 Cavolo ma fanno male questi Che fa? Che cavolo fa? Caspita Eh Attenzione Oh Eh, il danno però è minimo Eh, ma non ce la faccio schivare così tanto Stai un po' ferma, dai Oh 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 Aia Oddio Oddio, non posso riprendermi con qualcosa? Dai 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 Come ci usa sta roba? Ma non ho niente E adesso? Eh, bisogna stare attenti al vigore però perché se no... È duro è duro è duro è duro, dai Bisogna prenderci un po' la mano Potenziarsi forse un po' di più Eh... Però si può fare, non è difficile Come un souls vero e proprio dai Ci sta, ci sta Insomma, abbastanza fattibile Il gioco è molto bello Si è presente insomma Con una bella grafica Una storia che sembra interessante Insomma Bene, bene E' quello che mi aspettavo E se le premesse sono queste Chissà continuando Dove... Dove andremo A parare insomma Quindi Fatemi sapere la vostra ragazzi Se ci state giocando Vi lascio i link In descrizione e commenti Per acquistarlo a un prezzo scontato E niente Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti